Molto interessante, a me spiace non avere qui fisicamente, non ci ho pensato, il suo libro, il libro che scrisse mai più grassi, dottor Filippini, però... Io lo porto, io lo porto a prossima volta. No, ma visto che... Mi rifarò volentieri, non si però... So che comunque lei dedica un intero capitolo proprio agli integratori all'interno di questo libro. Sì, gli integratori sono molto importanti. Come diceva la dottoressa Pellizzari prima, gli integratori hanno un effetto fisiologico. In parole povere, per farci capire, l'effetto fisiologico vuol dire che servono per tenerci in buona salute e in ottime condizioni generali. E quindi l'integratore alimentare è uno strumento fondamentale nella cura anche della donna, per esempio in perimenopausa, che è un po' il tema di questo mese. Certo. Lei tra l'altro scrive, me lo sono sottolineato, il paradosso della fitoterapia. Sempre all'interno di questo libro, ma è più grassi. Perché si parla di integratori a base di erbe e di estratti vegetali? Perché questo paradosso? È una provocazione. È un paradosso perché noi quando... Noi mangiamo nell'arco della vita, nell'arco medio della nostra vita, mangiamo circa un 60 tonnellate di cibo. Di queste 60 tonnellate solo una piccola parte viene assimilata, cioè la parte nutrizionale. La parte nutrizionale che quindi serve per la nostra sopravvivenza. Cosa succede? Che quelli che noi conosciamo come gli estratti erbali, come gli integratori vegetali a base di erbe, come per esempio la curcumina della curcuma, oppure come la silimarina, oppure come i polifenoli del tè verde, non vengono riconosciuti come nutrienti. E quindi il nostro corpo una grande fetta, una grande parte di queste erbe non le fa assimilare. Scusi, non vengono riconosciuti perché non è nel nostro, come possiamo dire... Perché sono metaboliti della pianta. Questi composti, per esempio i polifenoli, sono dei metaboliti della pianta. Cioè sono delle sostanze che derivano dalle necessità della pianta, ma non dalle nostre necessità. Quindi noi nella nostra evoluzione abbiamo dovuto distinguere tra questi metaboliti della pianta e le sostanze nutrizionali che servono alla nostra vita per la sopravvivenza. Non dico che tutti vengano esclusi, però una grossa fetta di questa non viene assorbita. E allora cosa succede? Succede che avviene il paradosso. Il paradosso è che noi assumiamo questi prodotti e li assumiamo con grande speranza e spesso e volentieri invece questi prodotti non hanno le capacità biologiche per essere attivi. Ecco che, e questo è il paradosso, ecco che ci sono però degli integratori, che io definisco superintegratori, che sono degli integratori che hanno come una specie, chiamiamolo sempre in modo molto facile, di cavallo di troia. Il cavallo di troia è che uno di queste sostanze vegetali viene da laboratori specializzati unita a un nutriente e questo fa in modo che, per esempio, sempre nel caso del tè verde, che conosciamo tutti, il fenolo, i polifenoli del tè verde, vengono uniti con una lecitina e la lecitina, essendo un nutriente, viene assimilata insieme al principio attivo e così l'integratore diventa un integratore super, ok? E' un integratore che ha un effetto finalmente sperato e anche un effetto molto sentito dai pazienti. Certo. Alla donna per i menopausa le consigli ai integratori? Assolutamente sì, perché abbiamo detto prima che per mantenere la normale fisiologia l'integratore è uno dei pilastri. Una donna per i menopausa, per esempio il tè verde, parliamo sempre del tè verde, io lo utilizzo tantissimo perché ha un effetto metabolizzante, cioè ha un effetto di aiutare nella fase di metabolismo, cioè aiuta a bruciare i grassi in pratica, quindi aiuta la donna che in questa fase tende a ingrassare, l'aiuta a mantenere il peso corretto. Quindi non è una leggenda metropolitana, il tè verde brucia i grassi. Sì, però i tè verdi devono essere possibilmente dei tè verdi che vengono assimilati bene. Certo. Per evitare il paradosso, ok? Poi ovviamente, come diceva giustamente la dottoressa Elena, prima tutti gli integratori che servono a sopperire la mancanza di estrogeni progestinici, i lisoflavoni e altri che ha nominato la dottoressa. E poi, per esempio, ci sono tantissimi altri ormoni che vengono a diminuire sempre nella perimenopausa e che noi andiamo brillantemente a sostituire con integratori. Sono ormoni, oltretutto, che danno dei disturbi molto fastidiosi perché danno, non so, per esempio la tendenza alla caduta dei cappelli, l'abbassamento del tono della pelle, la tonicità muscolare che viene a diminuire e altre cose. Io devo accelerare i tempi molto velocemente, integratori sostituti del pasto, ma proprio una botta di risposta? Tecnologici, molto tecnologici. Sono degli integratori che sono a base di aminoacidi. Gli aminoacidi sono la parte plastica del nostro corpo, cioè la parte di sostegno, senza zuccheri, senza grassi e con pochissime calorie. Sono integratori da utilizzare in diete particolari, che sono delle diete a base di questi integratori, utilissime, per esempio, per la donna in perimenopausa e poi come supporto le terapie estetiche sempre della donna dai 40 ai 50 anni. Grazie a dottor Filippini.